Benvenuti nell'agorà virtuale di Fuoriclassico, la rassegna condotta magistralmente dal professore Gennaro Carillo che in questi anni ha portato al MAN tantissimi esponenti della cultura italiana e internazionale. Se posso dire Fuoriclassico è veramente il volto e l'espressione del nuovo corso del MAN perché attinge dalla sapienza del passato ma rielabora ogni problema nel mondo contemporaneo. E poiché noi vogliamo essere un museo fortemente impegnato nel contemporaneo e nel sociale crediamo che riflettere di nuovo su questi approfondimenti, assaggiarli di nuovo con la calma di questi giorni, sia uno dei migliori regali che possiamo fare ai nostri spettatori.